Vediamo poi come possiamo organizzarci, mamma mia che grafica di merda Ah in teoria questo qui è un remake, schermo e grafica Allora vediamo, vediamo, grana pellicola, motion blur, questo lol Vabbè però dai ci sta, alla fine è un horror, ci sta che c'è quell'effetto Odita DLS bilanciato, vabbè lasciamo tutto com'è penso Opzioni video, schermo intero senza bordi così posso squappare da lì Monitor 1, va bene, 1920, dovrebbe essere fatto No, Apple, no, Apple, accetta, accetta tutto Siamo in comunicazione Speriamo che i comandi della nostra testa sono semplici Avanti Shimura, se no ti piglia la testa e ti smatto Muramura Ma guarda non mi capita tutti i giorni Rispondete al comunicatore Che te lo dice raga, come se ti dice la raga, hai mai sentito, non so, il verso di un gatto Sembra che il sistema di comunicazione sia rotto Forse un codificatore guasto Io e Daniels lo sistemiamo in 48 ore Ehi, avrai tempo per stare con Nicole Sì Spero Guarda come il nostro protagonista pensa a trombarsi Nicole Vai in missione E come ogni gioco Di navi spaziali La nave spaziale Vaffanculo Come ogni gioco Attenzione Come siamo troppo veloci Stiamo andando a due secondi Il panico, il panico Siamo morti Trombami per l'ultima volta Insomma Non so se devo abbassare la grafica raga Non lo so Forse questo gioco è troppo messo Troppo messo alto Comunque il mio computer non lo so ormai che cazzo si sta prendendo Ehi, ripigliette Grazie Artemio Che problemi ha la sana di comando? Che ma guarda Oh no, comunque c'è un miglioramento La minchia raga È un gioco vecchio di Headspace Ma che è? Lei si chiama Johnston? Una ragazza così Johnston Ma che minchia è sua madre? Se mi immagino questa qui raga Fa una figlia Ti chiamerò Johnston Allora, attenzione Mamma mia raga Capitolo 1 Nuove inculate Mamma mia Segui la squadra di sicurezza Tab per visualizzare la messa Mica, però la visuale del mouse Raga, devo fare 20.000 rotazioni Per girarmi a 180 Vabbè, con questo cammino Aumento un po' Cazzo vuoi? Johnston Mamma mia raga Che grafica c'ha Quindi siamo scesi su sta nave così a caso Tranquillo PDB, bello mio Mamma mia raga Ha fatto troppo bello C'è questa ragazza qua Si chiama Daniel Quello Johnston Tutti i nomi incredibili Sicuramente Sofia E quello pelato E l'altra è Sara Sicuro Perché ho capito che con i nomi Hanno fatto un po' di confusione Non l'abbiamo distrutto l'insegna Il nostro protagonista Si chiama Che non so Teresa Probabilmente Mamma mia Caga, comunque il movimento è fatto di E poi guarda la maschera Raga, quanto era figa Sta maschera Mamma mia Ma vai a fare in culo Tu vuoi la registrazione Controllo di sicurezza Saranno confiscati Che cosa? Si prega di riporre Tutti gli effetti Personali Nel frattempo c'è qua Daniel Cioè ragazzi Che gioco dipende Non si può chiamare Daniel Eh Cosa? Mi stanno scansionando le palle Compiore di Ishimura Cioè ragazzi Hanno rovinato il gioco già all'inizio Ok, questo si chiama Daniel Jacob Temple Sarà una ragazza Raga, ovviamente Lo so che pensate Un generale È una ragazza in realtà Si sente il gioco Vero raga? Fatemi sapere eventualmente Se il gioco è così Ve lo aumento Perché vi dovete cacare Adosso pure voi Allora Con E apro le porte Mi No 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 Vai a fare in culo Non ci vado Entra tu Minchia Mi stanno ascoltando Entrano loro Ah po' Già mi sedo più sicuro L'ultimo è quello che muore Spera che mi metto Almeno terzo Avvertenza Questo articolo È sponsorizzato Da Ruscella Immagina un mondo In cui risorse fondamentali Come carburante Minerale Metalle Ghiaccio Sono rare Immagina se il bisogno Dell'umanità Dipendesse interamente Vabbè me ne sto fotendo Scusa Stavo parlando con la chat Minchia come si incazza Ah minchia se me lo ricordo Porca puttana Sì che me lo ricordo È proprio Dead Space 1 Io queste cose le ho già viste Minchia allora è fatto Ora ho capito Ragà Perché è passato comunque Una vita Da quando lo fa Ora qua in teoria Non vi spoilerò niente Ma so già cosa sta per succedere So già cosa accadrà Fra un po' Ecco Ecco Sta per succedere Stanno per essere inculati tutti Anomalia pericolosa Che cosa senti Daniel attenzione Daniel Sofia mettiti di lato No Sofia Oddio Oddio ti hanno inculato Minchia ragà Ma li hanno fatti Troppo belli Già erano inquietanti Ai tempi ma E Isaac Corri un paio di cazzi Oddio cosa faccio Non ho armi Devo correre Ah va Non corre Porca puttana Ma non ho manco un'arma Porca di quella puttana Vai via Vai via E vai a fare il culo Tu Voi avete mitra Minchia mia Cammane nude Mi hanno mandato Entra Entra Apri l'ascensore Usa Premi Perché non si usa Raga non funziona Faccio X dal pad Grazie gioco Che mi vuoi bene Oddio Attenzione Porca puttana Lo mi vuoi proprio male Cazzo fa Madò benedetta ascensore Minchia se mi sono cagato Raga Eh lo so che dovevo premere Giuseppe Ti sembra che non lo premevo Ho dovuto fare X dal pad Dai Minchia Speriamo che non è da tutte le parti così Allora raga Io non ho armi Parliamoci chiaro Minchia ma è fatto troppo migliorato Aspetta Ah questi qui mi pare che si rompevano Con la stasi Raga Perché dopo ti fa Tipo una specie di telecinese Si sente il suono Di qualcuno Sofferente Ma qua mi pare che si trovava la pistola Eccola Mi ricordo Mi ricordo Lui combina Un piezzi di ferroviecio Con un ferro da stiro Li mette Un pacco di sigarette Ed ecco fatto La nostra pistola al plasma Tutto così si fa Attenzione raga Mamma mia C'è uno che si inghiò Belle ste armi Mi pare che c'era pure la cosa per ruotare Come funzionava Aspetta come Vabbè così Sparo Non penso Com'è Q E E F A Sparo Eccolo Vedete Orizzontale e verticale Raga bellissimo Io li tengo di solito Orizzontale Perché ci taglia I am Così in questo modo Mentre così è per dritto Sempre meglio così Allora questi qui si possono aprire Adesso è funziona Raga Meno male Almeno so che non è rotto il tasto della tastiera Ma si poteva anche colpire tipo così E Mamma mia Ragazzi Non avete idea Non avete idea quante OP sta cosa Vate così Un pugno da faccia Ragazzi Ci leva tutto Così devo sparare Oddio Vai via Vai via Vedi Fate così I trucchetti Addirittura se li diamo dei calci Così che si squartano male Dovrebbero lasciare pure delle cose Tipo Ma non lo dai il calcio Dava il calcio Ah così Con spazio lo fa Vedi tipo Lei in teoria era una dei nostri Ma noi Mamma mia Ragazzi Guarda come No ma Perché si è fatto meglio Meglio raga Vado mi sembra Vaffa Minchia Per dirti l'obiettivo completato Ragà Minchia Un jump Schermet Oddio Sofia Daniel Crediti Non si può vedere una cosa che si chiama Daniel Per annullare il blocco Ne serve una di ricambio dal centro manutenzione Ma si trova tutto dal lato di Isaac Penso io Che sarebbe Teresa in realtà Isaac il cognome E Isaac Si Mi corse la camera E un medico no Farà le scelte giuste Si Si Come sempre Vabbè Vabbè basta Stacca che c'è Dei mostri Inculatori Vedi che c'hanno i doppi dildi Nelle mani Che mi infilzano Ma Allora Rimetti in funzione Tutto il bordello Ah questo è tutto il mio inventario E io come mi sposto Sull'inventario No Non farmelo Con le frecce T Con le frecce T Scomodissimo Ragà Ma se lo giochiamo da parte Vabbè Pierpaolo Tutto bene Non mi lascia niente Che brutto dover Scalciare i cadaveri così C'è tipo uno Sembra un sadico bastardo Ma in realtà è perché Ti danno delle cose Raga che lo installava Che schifo Ah pensavo che si metteva Un nuovo braccio Questo è il bello Di Diad Space Ragà Perché abbiamo adesso Pure questa cosa qua Che come cazzo si usa Ah tieni premuto Ah uso C Mentre No Io faccio così Rallento il tempo Vedete Per poter passare E gli ho tagliato il braccio A Pierpaolo Che non c'entrava un cazzo Bello Bello Mamma mia Veramente l'hanno fatto Identico Com'è Cioè non l'hanno stravolto Salviamo Salvataggio della vita Alimentazione assente Mi sto cacando di nuovo Oh Perché queste cose Ragà Non sparare alla testa Di queste schifezze Non le rallenta nemmeno Ok Non sparare alle testa Ah le gambe Ah beh già Io sono un grande pro player Ero già Eh Ma perché alcune cose Non le apre X Cioè devo farlo da pad Ho preso un nodo Cosa servivano questi qui E non me lo prende manco Sempre X dal pad Devo fare Ragà No Vabbè ma questa è una cazzata Ma non è che se stacco il pad Si sblocca Ragà A volte capita Che vai in conflitto Vediamo Proviamo se stacco il pad Se hai il volume basso Una manutenzione Ah Apre tutto Allora qua mi pare che si faceva Aspetta Aspetta fammi ricordare Minchia ma c'è pieno di munizioni Non mi ricordavo C'era tutta questa munizione Allora io in teoria faccio così Oh Porca madonna ladra Era Era una ladra Prima di diventare una madonna Mamma mia che fatto bello Com'è con spazio faccio la parata Ah ok cambio questo Allora qua mi ricarico la stasi Devo vedere soltanto questo qui Se si aggancia Perché mi pare che era Fammi vedere Eh ma allora l'ho fatto A start Questo qui resta agganciato Si attiva Oh madonna Ricarico Ah Corpo Un decor Dovrei fare tipo Così Ho sbagliato tasto E mentre Mentre questo è rallentato Faccio così Ok Fatto Minchia ma qua è Oh oh piano Con calma Oh ok Si è completato il bordello Posso Quel trasporto aveva bloccato il sistema Eone Hai detto che anche una scheda dati Raffusa Pare ci sia una scheda di ricambio al centro manutenzione Senza quella i trasporti non vanno Attenzione Quindi dove mi inchiavato Di qui La stasi la ricarichiamo Io non vorrei avanzare Non voglio far pinculare dei mostri Dicono che hanno Un pezzo grossissimo Andare di qua Il bagno Mi piace andare Oh ma io far sparo un salvataggio Che qua è Quando ci sono i salvataggi manuali Se la vita mi ha insegnato qualcosa è questa Quando il salvataggio è manuale Appena ce l'avete davanti Salvate Non fate come Che di no Beppe Tanto ho salvato poco fa No Perché poi vi rompe i coglioni Il rifare una cosa Quando mori Che bella questa torcia Giacomo Minchia bro Ma hai un collo enorme Guarda È tipo collegato È tutto collo No Non si può tagliare così Ragazzi Bisogna rimuoverla Adesso è già meglio Vedi che il collo è diventato più sottile Il collo è diventato più sottile E tutto Con pace Guarda Ma a me Ragazzi per i tempi Sto gioco Per i tempi Sto gioco Era uno spettacolo Allora Ora che io ho fatto tutto questo No E non so cosa ho fatto Me ne posso andare Mi dice di andare qua In questo posto super allegro Che non vedevamo l'ora Di visitare E di qua abbiamo la morte con gli occhi Mamma mia Mi stavo decapitando Ok Ci siamo Devo andare di qua Sto andando giusto Eh vabbè Oddio ma sparano Non sparavano prima Mi pare Oddio ma io devo usare una vita E come cazzo si usa Eh No 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 Sono morto Cazzo si usa Ho sbagliato Ho cambiato schermata Ragazzi Come cazzo si usa Ah vero ma perché No ragazzi Questa cosa che mi sposto con le freccettine È scomoda Perché io con le freccettine Sposto Cambio la schermata Madonna Ora è un casino Freccetti di navigazione Eh Navigo con quelli Raga con le frecce Niente Vabbè Uso il pad Dai sti cazzi No io non voglio Che cos'è vita? No Minchia Sempre crediti Ma non si abbassa il personaggio No Non si può abbassare Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Era troppo messo bene Raga Era troppo messo bene Apri tutto Usa Come cazzo funziona? Attiva Ma perché sti tasti di merda? Io ancora non l'ho capito No se premo questo Devo Eh vedi Mi fotte il gioco Oh va basta Lo gioco da pad Ragazzi Cazzo Sostituisci Ah ma io Aspetta aspetta Io qua posso dare corrente No a me serve corrente qua Per adesso Ma quale sostituisci? Metti la corrente qua In teoria questa qui si apre adesso Ok Certo c'è la sensibilità un po' Un po' lentina Ma almeno funziona Eh ora troviamo la vita Vedi che il pad porta fortuna Raga Apri tutto Ci curiamo Tuo pad Mamma mia Ma come No 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 Ma non riesco a giocare a sto gioco Raga Perché mouse e tastiere è buona È una cosa No 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 Così fa cagare Aspetta aspetta Sensibilità della levetta È che ci metto due ore per girarmi Viene l'ansia Quando mi giro così Raga E vedi Vedi perché Oddio Adesso non so da Da pad Come si usa La stasi Devo fare un tentativo Io miro Io miro e faccio A B X Y Y Ok Non ti girare Madonna Devi morirci però Un attimo che No no mi ucciso No Che cazzo fai Cioè ragazzi Avevo un nemico davanti Minchia gli schiacciavo i piedi Vabbè la doppia Ah a posto Siamo a posto Poi questo qui in teoria è tipo un survival Un survival horror Più o meno Quindi dobbiamo fare anche una buona gestione delle risorse Noi stiamo sparando così a minchia Avevamo tutti i barilli Esplosivi Potevamo sfruttare quelli Vabbè Tipo adesso se vengono dei nemici Ma io mi ricordo che si potevano prendere ste cose Ma non so se è una cosa che si sblocca dopo Sostituisco qua No no Ho spento tutto raga Non mi piace Qua è pieno di roba Munizioni Munizioni Altre munizioni Prendile Ma è stata una morte veloce Ah ma ma corri però Devi correre Vicina a te Vaffanculo Minchia E qua mi prendo pure io questo barillo Dov'era l'altro Ce n'era un altro L'ho visto Gli ho presi entrambi Minchia fammi riluttare Ah si entrambi li ho presi Vedi C'erano due roba Poi anche un segnale Per capire che si sta andando Della direzione giusta Che compaiono nemici Ce l'ho alle spalle No Eh stas musica di merda Dov'è dov'è che non sento un ca Oddio E' morto Non è morto E' morto No ce n'è un altro E poi alcuni muoiono prima degli altri Ragazzi non lo so perché Tienilo duro Trova la scheda dati Obiettivo completato Non usi il collegamento rig Nel caso Bisogna sia al colto Ti va di giocare a poker Ma che cazzo Mi interessa Qua c'ho i minchia Mi inculano dalla destra e sinistra Quello ti va di giocare a poker Potenzia il tuo Eccolo qua Il bello Eccolo qua Time to kill baggato Allora Vediamo come Qua possiamo Madonna mia Che bello Ah abbiamo un solo nodo Forse serve un'acqua Tipo che lì Ah un nodo Ma vaffa Un affinitore Potenzio pure la pistola Allora raga Pure la tuta Ah no la tuta l'avevamo già potenziata Allora il danno Pure la capacità Mi sa che Anzi no 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 La velocità di ricarica Tutta la vita Ah devo farlo proprio Così a seguirlo Ah vaffanculo Potenzialità Questo è già vivo Guarda ti sparo da ora Cioè ma si capisce Quando sono vivi raga Però potevano farle Tipo più Oddio Minchia raga Ma è OP È diventata sta pistola Ma squaglia Minchia prima Mare di colpi Adesso in pochissime Sono Sono morto Grazie zache Crocchetta Porca di quella Puttana Ah vai a fare il culo Pelato Ah ca Ah Cuo al punte Ok andiamo avanti Altre munizioni Noi dobbiamo andare di qua Minchia sbaglio sempre le vetta Raga Apriamo sempre l'altra Quando devo fare sta cosa Installa la scheda dati Ok riavvio tutto Chiamare il trasporto Per accedere ai ponti principali Ok vediamo Vediamo che succede Rimetti Com'è Eh Non ti ho capito Oh Daniel Minchia Li hanno Li hanno tranciati Ah no il treno Non li ha presi In teoria si apre qua Ora no Ah poi ci sono armi ancora più belle Raga No ma anche Anche io ho giocato male bro Figuri Ci riprenderemo bro Ci riprenderemo Cazzo mille del ride bro Qual è il Tu e Johnston Alla Kelly Noi facciamo rapporto Protocollo d'emergenza Ma Protocollo Emon della gente muore E non perderò nessun altro Daniele Non gufargliela Vedremo Cioè se io Se vi dicessi che uno si chiama Daniele L'altro Sofia Voi penserete Vabbè La ragazza è Sofia E l'altro è Daniele No vedi al contrario In questo gioco si Momenti Momenti di panico Oh qua c'è della roba Che ho dimenticato Penso prima Ma è baggatissima Raga Dai Porca puttana Ventimila anni Per fare un remake Mi fanno l'oggetto baggato Pensavo era una cassa Ma sei entro di qua Eh 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 Dai Dai perché sto suono Brutto Non inculatemi Ho un nodo Che culo Ma domis questa volta Minchia Mi sono cagato Non me l'aspettavo davanti Oddio L'ho one Sotta Mamma mia Siete a ponte Ma ciao Ciccio bellissimo Eh lo so Sto raggiungendo Il sistema di controllo Dammi un po' di tempo Non mi metto La fretta Ok Mamma mia Ti salvo io Johnson Com'era che si chiamava Johnson Ok si mette la pistola nel culo E siamo pronti Però Isaac è fatto diverso Raga dai primi Dead Space Molto diverso Guarda che bello Ok dimmi tutto Johnson Ah Johnson Che cos'hai dove si è sangue No Sono sceso qua Su una nave aliena Ficcia la pasta a casa E mi sono macchiato Non hai sentito nulla Cosa Non vai sistema di comunicazione Isaac Dobbiamo riparare la Kelly on ora Trapporto danni Oh Sì Eccolo qui Guarda con quale faccia la guarda Il nostro personaggio Dovevo stare con te Guarda meglio di no Non ci provare Che io devo trombarmi nei colli Ti ricordo Allora Quindi noi dove dobbiamo andare Guarda ci prova Abbiamo un testo Cosa c'è scritto Zacco Oggetto richiesta Perché no Come da richiesta Ecco le informazioni recuperate Sugli specialisti Inviati per la missione di riparazione Isaac Ah Io sono uno specialista Mandato per la riparazione Di Penso questa nave Ma poi si è sfasciata pure la nostra E l'abbiamo presa comunque Girala come vuoi L'abbiamo presa in culo Qua Oddio No No John, John Strone, cazzo si chiama No, ma perché ora la chiama Ele? Perché cambiano nomi? Oddio, questi sono più forti Ricarico, cambio caricatore Poi in teoria, quando sono così a terra, dovremmo poter schiacciarle senza problemi Tipo così Vedete, è risparmiare eventualmente delle munizioni È risparmiare un paio di cazzi Che dobbiamo trovare il capitano Magius Ah, Magius È Morto il capitano Isaac, dall'infermeria Taglia per la sala manutenzione Trova il corpo del capitano e il suo rig Con i suoi codici Va bene, va bene, dobbiamo trovare il corpo del capitano Matthews, va bene Se ti levi dal cazzo che qua mi dici attendere, magari No Oddio, Emma, scappa No Sofia, Daniel A quanto mi piace sta scena negli horror, ragazzi, che cade la La videocamera, no? E guarda caso gli dà la prospettiva perfetta Cioè, tipo come se Proprio Inquadrature fantastiche che lascia Minchia Quanti soldi abbiamo? 6.400 A 10.000 Mi compro l'armatura a livello 2 Possiamo addirittura prendere i punti node E sull'inventario? Ah, io posso vendere Eh, vabbè Ma sai che ti dico, raga? Che ha quasi quasi Tipo questa cosa qua di stasi La venderei Tanto se troviamo una ricarica Vabbè, magari non ora Deposito Cos'ha? Equipaggio Abbiamo una nuova armatura nel deposito così Aspetta, fatti guardare negli occhi così mi ricordo questa Ok, ok Minchia Che bello Fantastico, raga Ma è già più forte sta armatura, in teoria Perdonami Ma guarda come è stato sbudellato Guardate il collo come tendi a staccarsi, raga Gli diamo una mano Perfect Qua vedo delle ventole Quindi se dobbiamo usare la stasi È fatto bene o non bene Ma perché ci Eh, raga, dai, guarda Si vede palesemente che il collo è proprio fatto Che vuole staccarsi già di suo, eh Si capisce che vogliono essere decapitati Sti cadavere Ok, io adesso cosa devo fare Ah, vedi il modulo genetico Adesso possiamo prendere gli oggetti Voi immaginate all'epoca che cazzo era sto gioco, raga Fare queste cose Ecco, con il modulo genetico Com'è, le ti premute e premi B Ok, noi possiamo, vedi Spostare Delle cose Per crearci Dei passaggi I pillole A volte ci cala la pressione Meno male Possiamo riprendersi Cos'è? Stazione Madonna, mi sono cagato Ma è viva Guarda, me ne frega un cazzo di te Dammi l'arma Brava, amore Prendi l'arma Cazzo me ne frega di quella che dobbiamo resistire Ma vai a fare il culo Guarda che c'è qua Porca puttana Privo di sentimenti No Equipaggi arma Allora, devo equipaggiare proprio io così No, ho sbagliato Ho sprecato la stasi Qua tra l'altro c'è un mare di medicina Non sono medicina queste Però non me le fa prendere Allora, aspetta un attimo Noi dobbiamo andare di qui Però qua c'è ancora qualcosa Dei crediti Buono che ci servono Poi ci prendiamo l'armatura nuova Ok Minchia qua posso andare qua Vabbè ma io direi raga Facciamo una cosa Perché ho completato il primo capitolo Abbiamo fatto le fasi iniziali Il salvataggio ce l'abbiamo L'armatura l'abbiamo presa L'arma nuova pure Io direi per adesso Ci salutiamo qua raga Che per me è pure tardi E domani lo continuiamo raga Di addspace Quindi io Chiudo qua Con questa inquadratura tattica Che poi la uso per miniatura Su youtube Aspetta no Girati No no Aspetta che mi metto pure in posa così Adesso colpisco Perfetto Così poi faccio lo screenshot tattico E domani lo continuiamo Grazie.